l'idea che gianni abbia deciso di passare la sua vita con te nella sferena mi rende molto felice non cambiate mai rimanete così sei entrato nella mia vita buttando giù la porta con un colpo di fulmine e da quel momento hai scardinato ogni mia certezza e convinzione ed è per questo oggi che ti prometto solo e soltanto una cosa di sceglierti sempre scelgo te oggi ma soprattutto scelgo te per il domani domani che sarà pieno di risate amore e famiglia c'è una leggenda giapponese che racconta che quando due anime nascono e sono destinate a stare insieme sono collegate da un filo rosso questo filo rosso collega il loro polso sinistro sinistro perché è il polso del cuore inizialmente questo filo rosso è lunghissimo perché deve permettere alle due persone di vivere la loro vita affinché possano diventare più ricche e interessanti ma man mano che il tempo passa questo filo si accorcia sempre di sempre di più fino a riunire le due anime e questo è quello che vi è successo grazie a tutti è con immensa gioia e amore che vi dichiaro marito e moglie moglie e marito poi basare la sposa grazie a tutti 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 Grazie a tutti